Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi della Virtus Salerno Tanti auguri di Buon Natale a tutti i tifosi della Virtus Areghi Spero di vedervi numerosi in questo 2018 Aul Passate le buone feste e ci vediamo al palazzetto Ciao ragazzi Tanti auguri a tutti i tifosi della Virtus Salerno che nonostante le temperature basse queste settimane ci sono sempre venuti da supportare E auguriamo un Buon Natale a tutti i tifosi della Virtus Areghi ai salernitani e Buon Anno Mangiate assai Buon Natale a tutti Ciao auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i tifosi della Virtus Ciao a tutti Auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i tifosi della Virtus La Regia Salerno Tanti auguri di Buon Natale e mangiate mangiate che ora Ehi, ehi, ehi.